Rimozione dell'amianto nelle scuole, processo Thyssen ed Eternit. Su questi casi emblematici è stato puntato il focus nel corso di un convegno organizzato in occasione del quarto anniversario della tragedia della Thyssen Group. Il convegno, quale sicurezza nella crisi, nell'ambito della settimana della sicurezza, ha visto la partecipazione del PM Guarignello, che ha sottolineato che affinché si combatta con efficacia il fenomeno degli incidenti sul lavoro, è necessario che il datore o il consiglio di amministrazione nei casi di società sia individuato sempre quale responsabile nei processi penali. Il non sapere del datore di lavoro, aggiunto, è di per sé un fattore di colpa. Secondo Guarignello, per ridurre drasticamente il numero degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, sono necessarie tre condizioni irrinunciabili. La prima è una profonda diffusione della cultura e della sicurezza tra i datori di lavoro, i sindacati, gli stessi lavoratori, chi fa i controlli e la magistratura. La seconda è la celebrazione dei processi e il fatto che questi siano celebrati con celerità. La terza è appunto l'individuazione dei responsabili della sicurezza nelle aziende, sempre nel datore di lavoro. Al convegno ha partecipato anche l'assessore al lavoro della Regione Piemonte, Claudia Porchietto, che ha sottolineato l'importanza che si diffonda la cultura nella sicurezza dei luoghi di lavoro, soprattutto tra i ragazzi nelle scuole.